Siamo con l'assessore provinciale Saletti, 23esima edizione di Leggere e Volare, le chiediamo proprio un commento velocissimo, abbiamo visto tante sono le iniziative, durante la conferenza stampa avete detto che siete riusciti a organizzare questa manifestazione anche con minori risorse rispetto al passato, però la qualità sembra lo stesso buona. Sì, siamo riusciti, grazie alla sponsorizzazione della banca Montete Paschi, grazie alla volontà del Presidente che ha perseguito questo scopo, grazie ad un'azione sinergica con il comune di Pol Giubonzi, con le parole di giorni, abbiamo potuto realizzare questa 23esima edizione, un'edizione ricca di contenuti, di autori, di scrittori, ma anche di storia del fumetto, di storia del cinema, abbiamo una chicca con la proiezione del documentario dei Fratelli Verdone sulla vita di sordi, quindi insomma un panorama ricco di eventi e di contenuti che ci auguriamo possa essere apprezzato e nelle scuole e anche dal pubblico senese.